ciao ragazzi bentornati nel mio canale oggi siamo qui a parlare di della giornata della mattinata mi sono svegliato alle nove e mezza fatto colazione dopo di che siamo usciti siamo andati a fare un giro poi siamo ritornati a casa adesso sto facendo un video con voi e spero che mi ascolti attentanti e niente quindi ragazzi una sorpresa sta per arrivare vi aggiornerò sul posto in cui sarò mi parlerò del posto poi vedremo insieme tutto il posto e niente comunque sette bell'allerti non vedete l'ora della sorpresa la sorpresa arriverà mi aggiungerò pochi istanti quando sarò quando sarò lì sul posto mi racconterò un po di cose e niente ciao alla prossima ragazzi buona giornata a tutti e tante belle cose